La Juventus è prima in classifica, questo è un dato di fatto, ma si ferma qui, non la Juventus si ferma qui, si ferma qui l'opinione. Buongiorno, ciao a tutti ragazzi, come state? Buona domenica. Volevo pubblicare questo video finché potevamo iniziare la giornata in questo modo, e cioè da prima in classifica. E questo nessuno ce lo toglierà, almeno fino al termine della partita delle 18, insomma tra le 18 e le 21 si giocano due partite molto toste con quelle che ad oggi in questo momento sono le inseguitrici, Inter e Milan. Poi magari, oh, la butto lì, sarebbe nemmeno un malissimo farsi proprio una bella settimanina intera tranquilla tranquilla da primi della classe, farebbe bene al morale, farebbe bene all'anima. Non so quanto Allegri sarebbe contento, non tanto per il primo posto, quanto più per le pressioni che inizierebbero ad attribuire alla Juventus, i diversi ambienti. Tante persone vedono la Juventus come favorita perché non ha le coppe. Io l'ho già spiegato mille volte. Per me la Juventus non è la favorita, ma il fatto di non aver le coppe sposta, e sposta tanto. E sposterà tanto anche nei momenti clou, nei momenti decisivi, perché quando prima vi dicevo finisce qui l'opinione è per un solo motivo. E cioè che dopo dieci giornate siamo ancora troppo indietro per esprimere un giudizio definitivo. E quindi il fatto di essere prima, dopo dieci giornate, dopo nemmeno aver completato la decima giornata, non serve assolutamente a niente. Però dieci giornate sono anche un bel bottino, stiamo parlando comunque di un quarto del campionato. E quindi la pressione della Juventus è sicuramente interessante. Ora, l'unica cosa che secondo me possiamo veramente dire dopo questa vittoria con la Las Verona è che comunque la Juventus c'è tra quelle squadre lì, che andranno a occupare quelle posizioni lì. Ma mica tanto per la vittoria con la Las Verona. Perché la vittoria con la Las Verona non può essere la cartina di tornasole di una squadra come la Juventus. Ma allo stesso tempo la partita contro la Las Verona ha mostrato quella che è l'arma di questa Juventus. Ce n'è una principalmente di quelle che non puoi racchiudere in statistiche o analisi. Ed è la voglia. La voglia. La voglia non la puoi strumentalizzare. La voglia non la puoi descrivere. La voglia non la puoi mostrare con un fermo immagine o con un numero, con una percentuale. La voglia la vedi soltanto negli occhi dei calciatori, la vedi soltanto in quel passettino in più, in quello scatto in più. E la voglia secondo me deriva tanto anche da uno stadio che è tornato finalmente ad essere il punto focale della Juventus. Perché alla fine sappiamo sempre che i tifosi fanno quella differenza nei momenti in cui non ne hai più. E puoi dare quel qualcosa in più, puoi dare quel qualcosa in meno. Dopo i due gol annullati a Kane sentire uno stadio che trasformava la Bolgia in un inferno è stato meraviglioso. I tanti fischi, i tanti cori contro gli avversari è stato bellissimo. Secondo me i giocatori dell'Ellas si sono intimoriti, i giocatori della Juve si sono caricati. E' ovvio che il campo avrà sempre la precedenza, ma se ti manca quel centesimo per far l'euro ecco che lo stadio riesce sempre a darti quel centesimino lì per raggiungere appunto l'unità. E quindi un grosso complimenti anche all'Allianz Stadium e ai tifosi che finalmente sono tornati al 100% all'interno di quello che da troppo tempo era diventato un teatro silenzioso. Però voglio analizzare insieme a voi una cosa, perché io non mi stancherò mai di fare la lotta a questa campagna che secondo me è priva di significato e cioè del giocare bene e giocare male, che non vuol dire niente. Solitamente quando si dice giocare bene o giocare male è perché non si riesce a spiegare effettivamente che cosa significa o quali siano le variabili da prendere in considerazione. Questa Juventus è una squadra che segna ancora troppo poco, fa ancora troppi pochi gol, è una squadra che accende la luce e alza i ritmi soltanto quando ne ha voglia e quando ne ha necessità ed era quella un po' la mia richiesta nel post partita di Juve Empoli. Però dopo il derby io avevo fatto una sola richiesta a Massimiliano Allegri, dato che so per certo che Allegri è arrivato quasi a 60 anni, non andrà a modificare il suo credo calcistico in funzione di una singola stagione della Juventus. Però volevo vedere quel fuoco, quella grinta negli occhi di tutti i protagonisti. Il fuoco in Allegri l'ho visto nel finale di Milan-Juve, il fuoco nei giocatori l'ho visto nel finale di Juventus alla Sverona. Non è una differenza da poco metterci in campo quel fuoco lì e non mettercelo. Si è tradotto in sei punti conquistati nelle ultime due partite con un gol a zero, che è ancora troppo poco perché questa squadra segna ancora troppo poco è perché non ha i numeri offensivi per rimanere lassù in alto fino all'ultima giornata o comunque nell'ultimo periodo di Serie A per dar fastidio a tutte le altre. Ha maggior ragione guardando un attimo il calendario e rendendosi conto che affronteremo tra le altre la Fiorentina, che è una squadra rivelazione se vogliamo, anche nonostante lo stop, la brutta sconfitta in casa contro l'Empoli della settimana scorsa. Il Napoli, che sono gli attuali campioni d'Italia in carica. L'Inter, che è una finalista di Champions League, che ha perso per soltanto un gol a zero contro il Manchester City e il triplete. Insomma, stiamo per andare ad affrontare delle squadre toste, delle squadre importanti e probabilmente servirà qualcosa in più rispetto a quello che si è messo in campo nelle ultime gare. Prima parlavamo della voglia ed è una delle cose che non riusciamo a descrivere effettivamente con dei numeri o con delle statistiche. Però c'è anche un'altra cosa che invece riusciamo assolutamente a descrivere con i numeri o con delle statistiche. Perché la Juventus in questo momento ha preso soltanto sei gol in tutto il campionato. E quindi significa che la Juventus ha dato una forte impronta difensiva alla squadra. Tante volte quando si parla di giocare bene si prende in considerazione soltanto la fase offensiva. Ma la fase difensiva è ugualmente importante, così come la fase di transizione. E lo dicevamo prima, sulla fase offensiva abbiamo davvero delle cose da modificare. Su quella di transizione potremmo scriverci un libro, anche se in relazione all'ultima annata sembra esserci qualcosina di più. Sulla fase difensiva invece la Juventus ha assolutamente trovato il suo punto di forza. E quindi sicuramente possiamo dire a questo punto della stagione che la Juventus ha focalizzato tutte le energie su quel principio lì. Non è un caso che la Juve venga da quattro clean sheet consecutivi. Contestualizziamo ancora di più questo dato. Viene da quattro clean sheet consecutivi dopo aver preso quattro gol contro il Sassuolo. E se pensiamo che la Juve fino ad ora ne ha presi soltanto sei, di cui quattro in quella singola partita, capiamo che Allegri ha puntato la sua fisce su questo principio. E spiega anche un po' perché dalla partita con Lecce in poi, quindi la prima partita dopo la sconfitta col Sassuolo, la Juventus si è apparsa meno pimpante negli ultimi metri di avversari, meno sprecona di energie nella volontà di andare a pressare alto, molto più prudente, molto più attenta e se vogliamo forse anche meno arrembante. Nonostante, nel secondo tempo con l'Ellas Verona, se si è visto qualcosa in più. Però perché? Perché eravamo andati a risparmio nel primo. Quindi è una sorta di cane che si morde la coda. Io voglio invitarvi alla calma. Perché, ripeto, è meraviglioso e secondo me è veramente bellissimo, dopo più di tre anni ritrovarsi qui a svegliarci la mattina e guardare, vedere in una domenica come tante la Juve prima in classifica. È una cosa che mi regala gioia, semplicemente. Mi rende orgoglioso, mi fa contento, mi rende contento. Perché questo è quello che deve, non è quello che deve fare il tifoso, ma è il modo di viverla del tifoso. E ognuno la vive a suo modo. E io, quando leggo Uno e Juventus, sono sempre contento. Ma come vi dicevo, vale zero. Vale meno di zero. E voglio godermi soltanto questa mattina, in cui dopo più di tre anni e mezzo, la Juventus è ancora prima e da sola, e non dopo una giornata dove magari hai fatto i primi tre punti. Prima vi dicevo, mi invito alla calma, perché guardo il calendario delle prossime partite e vedo che è tosta. Perché sono coerente e consapevole del fatto che non basterà né la prestazione con il Verona, perché il Verona è una squadra con dei limiti, né le prestazioni delle ultime giornate. Perché Inter e Napoli sono sicuramente due tra le squadre a battere, forse più del Milan per i più. Anche se per me poi il Milan sarà la squadra che vincerà lo scudetto. E se prima vi dicevo che è una follia, pensare che la Juve sia la favorita perché non ha le coppe, diciamo che ogni squadra, il Napoli perché è campione, e quindi chi è campione è favorito. Il Milan perché? Perché lo scudetto si vince con le piccole. Il Milan fino adesso ha perso solo con la Juve e con l'Inter, le altre la vinte. L'Inter perché ha la rosa più lunga, la Juve perché ha le coppe. Quindi vedete che per ogni squadra c'è una motivazione per cui quella è la favorita. Perché secondo me alla fine non esistono squadre favorite. Ma ancora una volta, calma. Calma e sangue freddo. L'anno scorso abbiamo fatto nove partite di fila senza prendere gol e vincendo. Il periodo bene o male era questo. Perché quel filotto poi è continuato. Fino a gennaio, dove proprio al Maradona, al San Paolo, abbiamo preso cinque gol e siamo stati ridimensionati. E una battosta extracampo ha veramente complicato la nostra stagione. Sperando che l'extracampo possa essere definitivamente consumato con le vicende Pogba e Fagioli, la Juventus, come l'anno scorso, in questo filotto di partite vincenti e senza prendere gol, ha attraversato dei momenti convincenti e altri no. E quindi impariamo da quella che è stata la stagione dell'anno scorso e non buttiamoci a capofitto nel discorso che ehi, questa Juve è tornata, questa Juve è da scudetto. No, assolutamente no. Questa è una Juve con tanti limiti, tanti problemi che non sono magicamente scomparsi. Però siamo lì. Siamo lì con qualcosa di diverso dagli ultimi due anni perché vedo quel fuoco finalmente. Finalmente vedo quel fuoco. Poi se sarà un semplice farò, in riva la spiaggia, se arriverà a diventare un incendio, questo lo vedremo. Però negli occhi dei giocatori vedo quella voglia speciale. E se iniziano ad essere decisivi dei giocatori che non scrivono le prime pagine dei giornali come Andrea Cambiaso, il gol della vittoria al 96esimo è proprio firmato da un giocatore come Cambiaso, che secondo me è anche un po' il simbolo di quella che doveva essere la nuova Juve. Con Cambiaso dentro il campo, quindi una strategia moderna per lasciare l'ampiezza chiesa, per poter pressare ancora meglio in avanti. Per il momento accantonato, per il momento messo da parte, con Kostic che si riprende la titolarità. È un Kostic, secondo me, sempre più in difficoltà, ma poi ne parleremo nelle pagelle. Però la Juve ha un grande vantaggio, che è quello di non giocare le coppe. E se non giocare le coppe riesce a creare questa voglia che si traduce nel vivere, nell'affrontare, nel giocare fino all'ultimo secondo le partite di Serie A, ben venga un anno senza coppe, se poi riusciremo a mantenere questo spartito, questo copione, per tutta la stagione. Godiamoci questa mattinata da primi della classe e vediamo cosa combinano le altre, sempre con la consapevolezza che non vuol dire niente e che il meglio, e cioè la parte difficile, deve ancora avvenire.